Duplice obiettivo quello che si punta ad ottenere a Piaggini attraverso la partecipazione al bando relativo alle misure previste con decreto legge numero 34 del 30 aprile 2019 in cui si stabiliva lo stanziamento di fondi destinati a piccoli comuni per interventi infrastrutturali. L'amministrazione guidata dal sindaco Guglielmo Vairo nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione, risparmio economico per l'ente, miglioramento delle opere infrastrutturali sul territorio e due obiettivi che con l'ottenimento dei fondi relativi al bando ministeriale riservato nello specifico a programma di interventi infrastrutturali per piccoli comuni fino a 3.500 abitanti si possono raggiungere. Il progetto prevede la sostituzione di circa 300 punti luce al momento alimentati con lampade tradizionali e che con l'esecuzione dei lavori saranno invece sostituite da lampade a LED di ultimissima generazione e capaci di garantire un importante risparmio energetico con conseguente riduzione dei consumi. Con questo progetto, fanno sapere dal Comune di Piaggine, si punta alla riqualificazione dell'illuminazione pubblica al fine di ridurre i consumi e destinare con il risparmio energetico conseguente risorse aggiuntive per l'erogazione dei servizi migliori alla comunità. I lavori inoltre riguarderanno anche la messa in sicurezza delle armature dei pali della luce. A completamento dell'opera, secondo quanto evidenziato, l'ente comunale otterrà un risparmio energetico pari al 51% rispetto all'attuale consumo, in quanto il valore della potenza scenderà a 13,2 kWh. Tali interventi rappresenteranno una prosecuzione dei lavori già in essere lungo il centro storico di Piaggine, su 90 punti luce, oltre alla sostituzione di 80 punti luce e 3 quadri elettrici, ancora in fase di esecuzione, e che riguardano Piazza Vittorio Veneto, Corso Saia Longa e il tratto urbano della strada provinciale 11D. Puntiamo, spiega il sindaco Guglielmo Vairo, a nome dell'amministrazione comunale tutta, a ridurre le spese correnti intervenendo per gradi anche sui consumi pubblici, come quelli riguardanti l'illuminazione, attraverso lavori di efficientamento mirati alla contrazione dello spreco energetico e liberando così risorse da destinare all'offerta di servizi migliori e aggiuntivi alla cittadinanza.